Tesori nascosti da riscoprire a partire dal 12 giugno, loggie, saloni, giardini, affreschi, il Palazzo Ducale di Pesaro non mancherà di stupire i visitatori, di nuovo ammessi dal prossimo mese grazie all'accordo firmato da Prefettura, Comune, Agenzia del Demagno e Soprintendenza, Archeologia, Bellearte e Paesaggio delle Marche. Forse l'obiettivo principale, a cui sono più legato, quello che mi è più caro, quello che ho più a cuore è proprio quello di restituire il Palazzo Ducale alla comunità pesarese, comunque ai cittadini e soprattutto di rendere la Prefettura e il Palazzo Ducale un luogo aperto. Comitivi da 25 persone per le visite guidate gratuite, due i percorsi. Sarà prevista la possibilità di effettuare delle visite secondo un percorso ridotto nelle fasce pomeridiane del martedì e del giovedì e invece lungo un percorso completo che comprende quindi la visita praticamente a tutti gli ambienti del Palazzo, anche quelli occupati normalmente dagli uffici della Prefettura nella giornata del sabato mattina nelle fasce antimeridiane. L'accordo dà il via anche ad un piano di promozione del Palazzo Ducale affidato al Comune, in programma non solo visite ma anche mostre, incontri e altri eventi. Abbiamo in programma un evento importante che andrà ragionato con la sovrintendenza e con il demanio sulle ceramiche nel 2023. Nel frattempo ci arriveremo con momenti espositivi alla Sala Laurana e soprattutto il ritornare a vivere da parte dei cittadini. Il patrimonio di queste sale permetterà una maggiore fruizione delle opere e anche una maggiore circuitazione. Grazie a tutti.